Facciamo la pizza bianca ricoperta di zucca. Ricetta vegetale. Pizza condita con zucca, origano, aglio ed olio di oliva. Tagliamo la zucca, mettiamo in pentola e lasciamo cuocere a metà cottura. Dopo aver preparato e fatto lievitare l'impasto, formiamo alcune palline di esso. Distendiamo in teglia l'impasto. Aggiungiamo zucca, origano, aglio, formaggio, olio di oliva e sale quanto basta. Mettiamo in forno e lasciamo cuocere a 200 gradi per 20 minuti. La nostra pizza è pronta per essere ingustata. Buon appetito!